4-3-2-1 di Paul Oster, edito da Inaudi Secondo la leggenda di famiglia, il nonno di Ferguson partì a piedi da Minsk, sua città natale, con cento rubli cusciti nella fodera della giacca. Viaggiò a ovest fino ad Hamburgo, passando per Varzavia e Berlino. Comprò il biglietto per una nave chiamata Empress of China, che attraversò l'Atlantico in mezzo a violente tempeste invernali ed entrò nel porto di New York il primo giorno del XX secolo.